cari spettatori benvenuti a un'altra emozionante edizione del grande fratello oggi parleremo di mirko e dei giorni intensi che sta vivendo nella casa mirko sembrava aver trovato un po di serenità con perla ma la sua gioia è stata interrotta dall'arrivo di greta come previsto dal pubblico e forse anche dagli autori la situazione è drasticamente cambiata l'ex protagonista di temptation island è ora immerso in una confusione emotiva e perla ha preso la decisione di interrompere la connessione appena iniziata la sua dichiarazione da oggi in poi avrò meno discorsi con te ha sorpreso mirko e ha lasciato i fan a bocca aperta mirko perla vatiero sarah ricci e anita olivieri sono tutti nominati ma chi sarà il prossimo eliminato le incertezze persistono ma i sondaggi indicano brunetti come il più a rischio i fan che una volta lo sostenevano ora sembrano voltargli le spalle le parole di mirko sulla sua situazione con greta hanno deluso i fan dei perletti la sua ammissione sulla situazione complicata tra perla e greta ha spinto i sostenitori a votare massicciamente per escludere mirko sostenendo invece perla i sostenitori di beatrice luzzi si sono uniti per sostenere sarah ricci sperando di vedere fuori anita tuttavia anita ha il suo gruppo di fan pronti a difenderla in definitiva mirko si trova agli ultimi posti in tutti i sondaggi rendendo possibile il vero colpo di scena di questa edizione l'eliminazione di mirko rimanete sintonizzati per scoprire l'esito di questa drammatica situazione al grande fratello i colpi di scena sono dietro ogni angolo e potrebbe esserci una sorpresa nel prossimo verdetto non perdete neanche un istante iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati su tutte le ultime novità grazie per averci seguito e ci vediamo nella prossima emozionante puntata e ci vediamo nella prossima ciao 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 ciao